Cosa va a gas? A gas ha la potenza di... Ma praticamente lui può... Grande, grande Giancarlo, grande! Ciao Roberto! Sì, sono andorato, sono giù già più buone, non sapevo come fare niente più! Sì, sono andorato, sono giù già più buone, non sapevo come fare niente più! Sì, è arrivato a stare dall'entrugale! Sì, sono andorato! Sì, sono andorato! Sì, sono andorato!